È una questione di merito e di metodo. Rappresentare le istituzioni è una cosa seria e non si può pensare di rappresentare un osservatorio importante con quello che significano i rifiuti in Campania e farlo pensando che si stia a casa propria. Per coloro i quali hanno utilizzato una vicenda ignobile come quella di Solofra in un determinato modo non possono in nessuna maniera poter stare ai vertici di un osservatorio così delicato in una regione che ha già vissuto e continua a vivere un dramma che è quello dei rifiuti. In Campania continua a vivere un grande primato, quello di non avere un ciclo integrato vero dei rifiuti. Prima con Bassolino i rifiuti venivano portati in Germania con i treni. Oggi si utilizza una cosa forse più romantica che sono le navi che li portano in Olanda ma si continua a non affrontare in modo serio una questione di rilevanza per i cittadini della Campania.